giovedì ci sarà una nuova diretta online di fotografie da appartamento ti mancano gli spettacoli dal vivo i concerti gli incontri culturali la settimana scorsa l'ho fatto con delle persone speciali e questo me l'ha confermato una chiacchierata semplice e sincera che abbiamo fatto alla fine dell'evento ognuno da casa sua sparsi tra veneto piemonte lombardia e toscana la serata è stata molto intensa e delicata e divertente è rilassante sapere che ci sono così tante persone che si stanno perdendo in una storia in un appartamento a loro sconosciuto poi sabato era in diretta a book city a milano ed è stata una serata partecipatissima e senza fine lì abbiamo parlato del libro che ho scritto l'autre vivian in cui racconto della mia esperienza in francia e le interviste effettuate ai compagni di giochi della grande fotografa in shamsore se te le fossi perse entrambe o una delle due vorrai farti un regalo potrai scaricare due video dove ti racconto quanto la fotografia può trasformare il modo di vedere delle cose che ti circondano e nell'altro quanto vivian mai era amato le fotografie di se stessa con i suoi autoritratti scoprirai in questo modo che questo tipo di spettacolo da casa non lo faccia nessuno ancora nessuno un evento dal vivo e in diretta con tanta intensità e sincerità e con l'ausilio della musica suonata dal vivo e 45 anni di esperienza prima nelle radio libere di qualità e poi con la banda osiris che sono state la mia migliore scuola è un percorso unico sincero e sperimentale qualcuno mi ha parlato di protocinema e altri hanno parlato di video arte per me è quello che posso presentare nella forma migliore parlando di quello che ho vissuto in quei giorni le parole che ricevo da molti spettatori che sono persone in questo caso non un'entità indifferenziata siamo inventi mi parlano di salute dell'anima e mi dicono mi ringraziano per avergli fatto vedere la loro casa in modo diverso in tanti hanno cominciato a fotografare le loro stanze e a viverle in maniera più profonda hanno cominciato a cercare una profondità e a scoprire qualcosa di nuovo della propria anima o dei propri pensieri insieme abbiamo fatto un viaggio senza muoverci da casa e quello di cui mi rendo conto è che quello che riesco a raccontare è molto difficile non si avvicina all'esperienza di quei 50 minuti speciali per questo se ti iscrivi ti invio due video gratis perché tu possa vedere qualche cosa di più ti leggo il cielo è un tramonto arancione in controluce si staglia solo una panchina nell'orizzonte liscio e perfetto vivian cammina lentamente si siede resta immobile svanisce e le sue ceneri vengono disperse nel campo delle fragole dove portava i suoi bambini per divertirsi insieme a loro per scaricare i video clicca qui sopra o qui sotto e goditeli buona visione